Oggi ci troviamo a Sperlonga, una zona importante per la coltivazione del pomodoro da mensa in una serra vetrina della Esasem. In questa azienda, azienda Ilario Lucio, mostriamo oggi le varietà del catalogo Esasem dei pomodori da mensa. In particolare vi vorrei mostrare due novità di recente introduzione per la campagna agraria 2021-2022. La prima varietà di cui vi vorrei parlare è il pomodoro Ibla. Ibla presenta una pianta di buona vigoria con un grappolo molto regolare con non necessità di effettuare l'operazione di pruning, con un frutto perfettamente tondeggiante di un'ottima consistenza e di un'ottima colorazione a rosso. Le caratteristiche interne del frutto sono un ottimo spessore di polpa, frutto pieno e consistente. Ibla presenta una pezzatura media del frutto di 160 grammi, un pacchetto di resistenze genetiche completo ai nematodi, al Tilk, Verticillium e Fusarium. Per queste sue caratteristiche genetiche la varietà Ibla è raccomandata in tutti gli areali di coltivazione del pomodoro da mensa. La seconda varietà che vi voglio presentare si chiama Zeno. Si tratta di una varietà di pomodoro da mensa tipologia oblunga e una varietà adatta per essere raccolta a frutto invaiato, presenta una pianta di media vigoria che quindi la fa adattare a tutte le epoche di coltivazione, un frutto di pezzatura media di 160 grammi, molto uniforme con assenza di scarti. Lo Zeno per il comportamento di abitus vegetativo non ha problemi di marciumi apicali, quindi lo raccomandiamo per coltivazioni che possono partire da trapianti di gennaio nell'areale di Latina fino a trapianti di luglio.